bella a tutti ragazzi benvenuto a un nuovo video sono Reda e oggi porto un primo vlog lo porto perché vi voglio informare di varie cose sul mio canale vi voglio prima di tutto ringraziare per i 100 iscritti poi per i like perché mi sopportate e poi vi dico anche altre informazioni sul mio canale che questo ad agosto questo ad agosto non mi porterò tanti video mi porterò solo video un po per il cellulare e anche video vlog non so anche vlog perché non mi posso portare la playstation computer cazzata vale quindi non sentite più le mie belle canzoncine no cazzata comunque comunque vi ringrazio sempre per i 100 iscritti e comunque volevo informare di queste cose ringraziarvi anche perché mi sopportate e comunque da Reda è tutto ci vediamo prossimo video bella 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 bella